Ha tentato di ingannare i finanzieri mostrando loro solo tre dosi di droga per uso personale, sperando così di cavarsela con una segnalazione alla prefettura. Ma le fiamme gialle hanno approfondito il controllo e dal marsupio sono saltate fuori altre 40 dosi di cocaina. È successo nel centro storico di Montevarchi, in manette, un cittadino straniero residente a San Giovanni Valdarno. I finanzieri nel corso di un servizio di controllo hanno notato l'uomo stazionare sul ciglio della strada nei pressi della stazione. Insospettiti l'hanno identificato e lui si è subito mostrato innervosito, poi il tentativo di raggirare i militari ed infine le manette. La droga, già confezionata e pronta per essere ceduta, è stata sequestrata assieme a 2250 euro in contanti, secondo le fiamme gialle provento dell'attività di spaccio. L'uomo si trova adesso nella casa circondriale di Arezzo a disposizione della Procura della Repubblica. Nel corso dei controlli nei pressi della stazione, ai quali hanno partecipato anche le unità cinofile, sono state identificate in tutto 57 persone, controllati 30 automezzi, segnalate 3 persone alla prefettura ed infine sequestrati 3 grammi di cocaina, 5 di hashish e 2 di marijuana.